Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su Virtua Tennis e siamo in Francia, più precisamente all'Eroche, su Rion, in un francese curioso, che andiamo a fa'? Dai ci facciamo una pokerata, vai, dobbiamo allenarci, ottieni la mano, ottieni la mano. Ecco, guarda che brava, e Kume ti svegli? Vai! Eh, full di sto cazzo, con tutto rispetto, no, non riesco, devo mirare, vai, full, ok, devo andare, devo andare di precisione. Eh, però non manca tanto, eh, affrettati, meno male, dai, oh god, go demon to land, oh. Yes, yes, delizioso, come delizioso in Viola. Successo! Successo! Allora, vediamo se riusciamo a trovare magari un qualcosa di diverso, perché questo completino non mi gasa molto. Ok. Allora, il mio club, o club, o club, scegliete voi. Catalogo accessori, c'è qualcosa di carino? No, così sembro il Parmax, però ma che gambe offre. Poca roba, poca roba. Allora, andiamo un po' più seri, magari. Ma si, ma costa 2005 sta roba, fa da cagare, cioè. Mamma mia, che tristezza, raga. Aspettiamo, stavolta voglio mettermi arancione, ma che sboccia, impossibile. Ciao. Andiamo avanti. Cazzo ho fatto, non ho sbagliato, parca miseria. Ce l'avevo comunque, vai. Cominciamo dalle qualificazioni, ragazzi, contro Pallavichini, ragazzi. L'ungherese Pallavichini, vai. Open di Francia, e si goda. Cominciamo dalle qualificazioni. Dobbiamo qualificarci, ragazzi. E che palle, però. Bello, calma, calma, calma. Max. Dai, ma chiudilo, però. Yes. Bravo, bravo, come? Dai, il missile a terra. E come cazzo ho restato un gherisino? Buono, buono, buono. Devo giocare dal fondo, perché è quello il mio gioco, che se vorrei fare serve and volley, appena lo scarico. Figlio della mignota. Vai, ciao. 40, 15. Molto delizioso questo cume, ecco, tutto viola, con il codino, molto delizioso. Ciao. Gioco, giocatore 1. Perfetto, perfetto. Giocatore 2. La scalata è appena cominciata. Dobbiamo vincere le quattro prove dello snello, ragazzi. 15, 0. Contro palla vichini non si può perdere, contro palla vichini, ragazzi. Su noi si chiama così. Non si può perdere. Ciao. E' bello il suo servizio, molto eccitato. Dai, chiudimela, come? Ma questo è un tiro abbastanza obeso. Sto tirando male. Eccolo qua. Ciao, baby. Ciao, baby. Ciao, 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 ciao. Buono. Sto tirando di merda. Bello, 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 bello. Dai, no. La chiudo male. E la salva, non so come. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Don't not paro limpo la quantità. Ciao. No. Dai, però. Spero de' salva tutte, oh. Dai, andiamo a chiudere questo primo turno. E dopo c'è il tabellone principale. Prenderemo fuori subito. Cioè, sarà quasi impossibile a questa rifi... Cioè, con questo livello di giocatore. Comunque, soffriamo anche con le qualificazioni. Questi lì, incoglioniti. Vorrei fare più che un miracolo. Ai, ai, ai. Signora Lungari. Mi è caduto sul pallavichini. Ma è meglio così. Devo vincere nel mio... Nel mio... Servizio. Quando batto io il mio servizio. Perché mi sono rotto i maroni. Perché se vado fuori... Mi sono qualificato comunque... All'Open d'Australia. Ok, ero più scarso. Mi girano le palle. Quando la vichini rompe i maroni, però. Ho preso anche il nastro, questo strunzone. Bello. Menomale. Però non sono ancora a grandi livelli, eh. Volevo l'Ace. L'Ace non arriva. Ma chiudila bene. Bellissimo Smash. Lo Smash. Vogliamo un Ace. L'Ace non arriva. L'Ace non arriva. Ma no. Se li vai in contro sbagliato. No, per poco Ace. Chiudila bravissimo. Dai, dai, dai. Doppio match point. Contro Bella, palla vichini. Guardalo, guardalo. Stilosissimo. No, cos'è sta roba? Ah, meglio. Delizioso. Dai, però, cura. E dorme questo. Guarda come... Questo urla come proprio una chicchetta esterica. Mamma mia. Mamma mia. Sono in soff... Aia. Salviamola. E chiudila. Ciao. Ok, si va in finale del tabellone di qualificazioni agli Open di Francia. Agli Open. Dai. Siamo contro Ibrahim. Contro il Malesiano. Il Malesiano di merda. Siamo contro il Malesiano di merda. Vai. Giocatore 1. Per poco Ace. Ma la chiude così. Non la chiude, incorrigibile. Ciao. Sono contro il Malesiano di merda. Non ci credo, non arriva l'Ace. Ma ciao. Ciao. Ci sono tirano dei missili terrarie. Bella. Dai, 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 dai. Mi è un culato. Non ho ancora le abilità sotto rete, purtroppo. Si vede. No. Cretino. E va a fare buona. Dunque come grafica, c'è la siglia, fa giochi sempre attuali, cazzo. È sempre meraviglioso, c'è. Per quanto, insomma, sia un arcade azzo puro, ma... Gol. Ottimo, ottimo, ottimo. Cerchiamo di chiuderla subito. Contro, incontro tempo. E il kume si scatena, ragazzi. Il kume oggi è più beffardo del solito. Beh, ormai, insomma, le qualificazioni è roba nostra, comunque. Sono ancora lontani dalla top, però... E ancora... Aggressivo, questo kume, aggressivo. Il kume di ora. Ponte bello, il kume di noviola, è un bel buono. Che cazzo di zio è? Yes. Molto bene, molto bene. Perfetto. Ok, il terreno principale, cazzo. Contro Tommy Ass. Vabbè, ciao. Sarà duretta, sarà duretta, sarà duretta. Contro Tommy Ass. Giocatore ufficiale. Servizio, giocatore u. Proviamoci. Non costa niente. Dovevamo servire bene, devo fare un miracolo che va al di là di tutto. Bravo, kume. 30 a 0. Nooo. Ma porco, kume. Eh, non è facile, lo sappiamo. Dio Cristo, era quasi ace. Bravo. Ora si soffre. Ora come me le tira, Tommy. Piccolo Tommy, grande Tommy Ass. Uff. Chiudimela. Eh, Tommy ce la fa. Bella, questa è roba mia. Noi. No così, no così. Lo salvo. Eh, però ho sprecato una bella occasione. Brutta occasione sprecata. Gol. Dai. Servizio inaccettabile di Ass. Servizio inaccettabile di Ass. L'inaccettabile di Ass. Contro Seppi. Abbiamo perso malissimo. Calma, calma, calma. La terra rossa è un po'. Casa mia. E' che vogliamo diventare i primi del ranking. Sì, non oggi chiaramente, ma il prima possibile. E' un po' più facile. E' il cuo, al posto di cadere come una pippa. E' dura, ragazzi. Tommy è un bel uomo. Contro il bel uomo è il cuo. Ma si avrà fatto fatica. Vai. Grande, vecchio. Grande. Ma porca miseria. Bravissimo. Come? Very good, very good. Very good. Raga, possiamo chiuderla. Possiamo andare avanti in un open del grande slam. Sì. Ragazzi, siamo in semifinale. Non ci credo. Pesantissima questa. Siamo in semifinale. Non ci credo. Di Coppa di Francia. Siamo contro Gonzales. Fernando Gonzales. Durissima. Ma si può fare. Ciao. Ok, calma. Abbiamo già fatto il massimo. Uff. Eh, però... Lei è un po' dura adesso. Prendiamo un po' le bombe di Pop, eh. Mi va a cagare. Bravo, Cume. Bravo. Devo cazzare l'alangolo, per forza. Siamo ancora a vivi, Beppe. Mamma mia. Grande curo. Grande piccolo curo. Devo cazzare da tutte negli angoli. Yes. Stai calmo, come stai calmo. Relax. No. Troia. No, ho sbagliato. No. Cosa? Doppio fallo? No. Che cogliore. Crisi come indiana. Ah, ho perso forse l'attimo. L'attimo fuggente. Yes. Bravo. E vinciamo a nostro servizio. Non mi brecca il porco. Se vediamo... Cosa combina lui. Eh, sarà quasi impossibile vincere sul suo servizio. Però proviamoci, insomma. Non è impossibile per il cuore. E la sbaglia. Di maniera uscena, Gonzale. Porca miseria. Contro il tempo. Come indiana. Vai. Bello, bello. Eh, sul suo servizio. Vince lui. Va bene. Ci giochiamo tutto. Ci giochiamo l'onore del cuore. Insomma, devo battere bene, però. Vai. Non ci credo... No. Cosa ha salvato. Va bene. Va bene. Calma. Sapevamo che era dura. Eh, non le sbaglia più. Non le sbaglia più il porco di... Gonzale. La salvo per miracolo. Però, abbiamo superato un turno in una prova del grande slam. Perché siamo sulla strada giusta. E la salvo ancora, però adesso mi distrugge. La salvo ancora. La salvo ancora. La salvo ancora. La salvo ancora. Mi sta umiliando, eh. Bravo. Bravo. Fernando Gonzales. Non è ancora il momento, ma lo sarà presto. Oddio. Perdiamo con onore. Ma siamo sulla strada giusta. Va bene, va bene. Qua preso tanti sollini, spero. E vince Gonzales. Sa che torneo perde Nadal. Uh, andiamo bene. Bonus agente. Pericolo. Perfetto. Siamo promessa. Buono. Eh, ne mancano ancora, però. Mamma mia. Eh, siamo ancora lontani. Trofei. Miglior tenista della stagione. Ah, però. Ho vinto qualcosa. Bene. Ma che stiamo salendo. Si lo so. Terza stagione. Europa. Eh, se abbiamo Wimbledon. Ok, primo turno in Svezia. 166. Ce la facciamo, dai. Ok. Allora, facciamo un allenamento. E dopo chiudiamo. Perfetto. Ragazzi, raccogli le monete. Vinci il punto. Dai, cazzo. Porca miseria. Dove vincere il punto per il bonus. Eh, si faccia dura il livello 2, però. Cazzo. Cazzo. Oh, metti da una svegliata magari, grazie. Ah, perché. Mi viene un po' rincoglionito. Affrettati. Ola. Perfetto. Così ho il bonus. Così ho il bonus. A posto. Successo. Buono, buono, buono. Soldi mi arrivano. Niente, raga. Dai, un'opera di Francia molto, molto positivo. Siamo in una nuova categoria. Siamo una promessa. E niente, fine. Un saluto del Comandone Veneziano. E oggi abbiamo affrontato anche il Maresello di Merda. Ciao.